Il tema dei migranti e dell'eventuale accoglienza in Val d'Arno è arrivato nel question time di ieri a San Giovanni attraverso un'interrogazione di Lorenzo Martellini che ha chiesto l'UMI proprio sull'attuale situazione interna alla città di Masaccio per numeri attuali e futuri. Abbiamo preso spunto dagli incontri fatti dal sindaco nello scorso mese di luglio con il prefetto, con gli altri sindaci del comune e con l'assessore regionale per chiedere innanzitutto qual è lo stato dell'arte della situazione, ovvero quanti migranti sono stati accolti nel nostro territorio e in che condizioni e con quali garanzie per i cittadini e anche per i migranti stessi sono stati accolti. Noi crediamo che dobbiamo ovviamente garantire l'accoglienza a chi scappa dalle guerre e dalle persecuzioni perché è un dovere civico e morale di ogni comunità però come disse il sindaco questo deve avvenire in condizioni di assoluta sicurezza per i cittadini e quindi vogliamo coniugare solidarietà con massima sicurezza. Erano dei temi della nostra campagna elettorale e vogliamo coniugarlo con questa accoglienza che deve essere garantita per gli stessi migranti ma anche per i cittadini. Peraltro la risposta dell'assessore al sociale Sandra Romei è chiarissima. Attualmente a San Giovanni ci sono sei migranti, parte di questi sono cattolici che frequentano la parrocchia di Santa Teresa d'Avila in Oltrarno. C'è poi un'associazione temporanea di imprese tra le cooperative di zona che cerca i presupposti per eventuali non vi arrivi ma solo in caso di conformità di tutti i parametri per la sicurezza.